Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Sappiamo tutti che prima di conoscersi, sia Alessandro che Simone hanno avuto, nel loro passato, una donna e una figlia rispettivamente. Il divulgatore scientifico ha speso sempre dolcissime parole per Melissa, figlia di suo marito, dicendo «Le voglio un bene dell'anima, e mi piacerebbe fornirle non soltanto amore e presenza». Intervistato tempo fa, Alessandro, ai microfoni di fanpage.it, ha dichiarato di voler adottare la figlia del compagno Simone Antolini, e che farlo sarebbe un modo per dare alla piccola una sicurezza, pur precisando che c'erano ancora dei passaggi tra Antolini e la ex compagna da definire. Poche ore fa, però, Alessandro si è lasciato andare ad un lieto annuncio in diretta su Radio RTL 102.5, dicendo «Presto saremo in tre e la cosa, ovviamente», ha subito fatto saltare di gioia i suoi numerosissimi fan. Ma a cosa si riferisce il giornalista e conduttore? Il toto scommesse è iniziato e sono in tanti, al momento, a pensare che si tratti di un bebè in arrivo in modo da allargare la loro famiglia, suggellata dall'Unione Civile mesi fa. La cosa, inutile dirlo, è stata accolta alla grandissima dai fan che non potevano ricevere notizia migliore.